Con una sentenza storica, la consulta apre al suicidio assistito e stabilisce che non è punibile e che agevola il suicidio nei casi come quelli del DJ Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale e attaccato ad un sondino per sopravvivere, vittima di atroci sofferenze per la sua patologia, ma pienamente consapevole della sua volontà di considerare quelle condizioni di vita non compatibili con la sua dignità. Ma ribadisce come resti indispensabile l'intervento del legislatore, che già aveva sollecitato inutilmente l'anno scorso, sospendendo per 11 mesi la sua decisione sulla costituzionalità dell'articolo 580 del Codice Penale, una norma introdotta 90 anni fa e che pone sullo stesso piano aiuto e istigazione al suicidio con la reclusione sino a 12 anni. Questa non è la fine del percorso che abbiamo intrapreso, quindi la felicità riguarda le persone che noi non conosciamo, ma che ci sono e che ci saranno, che si trovano in quelle condizioni di sofferenza insopportabile, di malattia irreversibile e che da oggi non avranno almeno quella paura in più della minaccia per i propri cari e per i propri familiari. Anche il PM di quel processo, Tiziana Siciliano, che già aveva chiesto la soluzione per cappato, parla di un passo molto importante. Tra chi esulta c'è Mina Welby, che ora chiede una legge per la libertà di decidere fino alla fine. Eppure Beppino Englaro, il papà di Eluana, invita il Parlamento a legiferare secondo le indicazioni della Corte, ma la sentenza divide? Non piace affatto al mondo cattolico, ma anche la Lega. Dalla maggioranza il vice segretario del PD Andrea Orlando, che chiede di seguire la strada indicata dalla consulta nella stessa giornata in cui diversi senatori della maggioranza hanno presentato una proposta di legge per il suicidio assistito. La Corte in particolare ha ritenuto non punibile a determinate condizioni che agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi e di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che gli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La verifica delle condizioni richieste e delle modalità di esecuzione deve essere compiuta da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. Si tratta di cautela adottate per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, un'esigenza già sottolineata nell'ordinanza 207 con cui un anno fa aveva sospeso la sua decisione.